Per poter suonare jazz in tutte le sue sfaccettature stilistiche devi avere un grande hard disk mentale. Mi ricordo, mi chiama la manager svizzera tedesca di Miroslavvitus, non un pirla, Miroslavvitus, e mi fa ciao Stefano, allora Miroslav vuole tu alla batteria, abbiamo tre concerti in Germania, sei libero, porca troia, certo. E mi sono cagato addosso, va bene, ci incontriamo con Miroslavvitus, non mi ricordo dove, in hotel, l'avevo conosciuto perché avevamo suonato insieme precedentemente con Franco Ambrosetti. Gli ero piaciuto per cui successivamente mi chiamò nel suo trio insieme a una specie di Gianluigi Trovesi tedesco, un signore che suonava il clarinetto basso, il soprano, il flauto, un geniaccio pazzesco, non mi ricordo il nome purtroppo. Le prove, le prove al bar dell'hotel, seduti davanti a un caffè, e io poi non parlo inglese, ma insomma più o meno riesco a capire, fa la scaletta e mi dice, allora facciamo questo pezzo, facciamo quest'altro, bene, bene. E io gli chiedo, Miroslav, ma come ti piace che io interagisca con te? E lui mi fa, non ti preoccupare, guido io, che sta a significare una cosa molto semplice, sono Miroslavvitus, questo è il mio trio, suoniamo degli standards, ma li suoniamo come cacchio voglio io, non in maniera tradizionale. Ti ho chiamato la batteria, so come suoni, mi fido di te, quindi sei sufficientemente sveglio per recepire tutti gli input che io ti darò durante l'esecuzione dei brani, in maniera molto molto creativa. Porca troia, vabbè, facciamo un concerto, bellissimo, tutti contenti, finalmente dormo in hotel dopo il primo concerto, e fazza, ce l'ho fatta, bene, facciamo gli altri due, eccetera, eccetera. Torno in Italia, la sera stessa, dopo i tre giorni con Vitus, suono col quartetto di Gianni Basso. Resettare tutto, perché anche con Gianni Basso suonavamo standards, ma li suonavamo gezzisticamente in tutt'altro modo. Adesso non mi ricordo la scaletta, ma oserei dire che qualche brano era lo stesso, qualche standard che ho suonato con Miroslavitus le sere precedenti, li suonavamo anche con Gianni Basso. Solo che Gianni Basso non mi diceva guido io, con Gianni Basso bisognava suonare jazz classico, e anche in quel caso, con Gianni già suonavo da diversi anni, non c'era bisogno che Gianni mi dicesse Allora, questa è una ballad, suonala così, questo è un medium swing, suonala così, cioè, dovevo saperlo io. Ecco dove sta l'hard disk, saper gestire magari lo stesso brano, una sera suonato in maniera creativa e imprevedibile, e la sera dopo invece tornare nei ranghi della tradizione. È un lavoro complesso, tutto è relativo, il fatto di essere molto duttile, di avere studiato, di aver avuto in passato una buona tecnica strumentale, soprattutto l'aver ascoltato miliardi di dischi di stili diversi, fa sì che per quanto mi riguarda non è così difficile. Suonare, per esempio, Autumn Leaves in maniera completamente destrutturata, e la sera dopo invece dentro i canoni precisi. Ci vuole pratica, ci vuole esperienza, ci vuole tanto ascolto, e torniamo sul vecchio argomento. Ascoltate tanti dischi, tanta tecnica, ma ancora di più tanto ascolto. Il rischio di avere tanta tecnica e poco ascolto, fa sì che difficilmente potrai essere un batterista jazz, duttile e adatto in tanti stili diversi. Anche questo fa parte della scelta personale del professionista. Io sarò un bravissimo batterista swing, e di tutto il resto non mi interesso. Va benissimo, è una tua scelta. Per come sono io, quindi una persona molto curiosa, che passa da leggere i fumetti di Tex Wheeler a Platone, a Mario Rigoni Stern, a le biografie di Salvador Dalì o di Rimbaud, e che guardo film da Jurassic Park alla Notte di Antonioni, questa mia onnivoracità fa sì che anche in musica io non potrei ingabbiarmi in uno stile. Tant'è vero che ho iniziato come batterista d'Xilen, e poi ho fatto tutt'altro. Oggi non suonerei più in una band d'Xilen, non mi interessa più. Divulgo quello stile didatticamente, perché è una cosa da fare. Per me è saggio, cioè se io ho un allievo in conservatorio che si deve diplomare in jazz, è chiaro che io devo fargli conoscere tutto il percorso evolutivo della batteria, da Kaiser Marshall a Baby Dots, a Joe Jones, a Jim Krupa, a Max Roach e compagnia. Musicalmente la mia d'utilità è semplicemente avere le mani agili, ma soprattutto la mente agile. I riferimenti di cui ho parlato in un altro video sono fondamentali. Aver ascoltato jazzisticamente di tutto e anche oltre al jazz, mi ha permesso di avere tutti i file mentali che si accendono e si spengono in base all'occasione.